Ho dedicato la vita all'estetica e ho visto esiti così convincenti da potersi considerare stati di grazia. Quando ammiro una persona che ho aiutato ad acquistare bellezza e salute tramite i miei trattamenti di medicina estetica viso-corpo e di chirurgia estetica, ne apprezzo la serenità, la naturalezza e l'empatia. La bellezza, nella sua purezza, ha il potere e lo scopo di essere profonda, di avere senso in sé. Marcello Stella, specialista in chirurgia plastica.